Comincia oggi la quinta edizione del Sicily Farm Film Festival, festival internazionale di cortometraggi, documentari e videoclip tra la Valle dei Templi di Agrigento e la Farm Cultural Park di Favara. Madrina della finalissima condotta da Riccardo Gazz sarà l'attrice Serena Autieri, sponsor ufficiale del festival e l'IFAD Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo dell'ONU. Ascoltiamo il direttore artistico del festival, il regista Marco Gallo, al microfono di Giuliana Micicè. Dal 19 al 22 agosto tra la splenida cornice della Valle dei Templi e di Farm Cultural Park si terrà il Festival dei Corti, il Sicily Farm Film Festival con ospiti peraltro di rilievo. Sì, finalmente ci siamo dopo tanti mesi di lavorazione e soprattutto di preoccupazione perché in questi mesi non sapevamo l'esito di questo festival, se si poteva fare e come si sarebbe fatto. Quindi abbiamo cercato di fare un evento ancora più grande rispetto a quello degli altri anni, in primis con lo sdoppiamento delle location, quindi confermare quello che è stato fatto nei quattro anni precedenti a Farm Cultural Park e due serate dedicare alla Valle dei Templi di Agrigento dove porteremo questo lungo red carpet sulla Via Sacra e questo sarà una cosa molto bella da vedere ma anche per il pubblico per entrare un po' nel mondo del cinema. L'obiettivo è questo, quello di riportare il cinema alla Valle dei Templi e ad Agrigento. Speriamo di dare un grande evento che sia lungo negli anni e che si possa ripetere per tanti anni. Quest'anno proiettiamo cortometraggi, documentari e video musicali di spessore perché ci sono i finalisti del Davide Donatello, Festival di Cannes, Berlino, Venezia, quindi averli tra i nostri finalisti è sicuramente un grande onore e speriamo di premiare con una giuria d'eccezione, una giuria di esperti, speriamo di premiare quello che possa piacere anche al pubblico. Ci sono ogni sera dieci storie diverse, quindi non c'è soltanto un film ma sono ogni sera tante storie differenti e questo è il punto di forza del Festival. e due ospiti meravigliosi come Tony Sperandeo a cui daremo un premio alla carriera e la madrina che sarà Serena Autieri. Sono molto contento e soddisfatto del risultato fin qui e speriamo veramente che il pubblico possa godere di questo evento per quattro serate nonostante le difficoltà che stiamo vivendo. E proprio per questo motivo ci tengo a precisare che stiamo rispettando le normative Covid, quindi l'ingresso è gratuito ogni sera alle ore 21, però fino ad esaurimento posti con sedi distanziate, daremo l'ingresso per chi non le avesse le mascherine, verrà controllata la temperatura e ci sarà il gel anche per le mani. Quindi sicuramente ci siamo preoccupati, abbiamo lavorato tanto anche per questo.